Camminando per le valli bergamasche, mia moglie mi disse Cosa c'hai? E io Ma cosa faccio a settembre? La saggezza delle donne Perché non fai una fondazione che aiuti i bambini? I bambini? Io sono entrato nel non-profit pensando di dare tutto il contributo della mia esperienza di imprenditore E il non-profit ha cambiato me Perché mi ha fatto capire quanto è importante camminare vicino a quelli che hanno avuto meno della vita Mission Bambini ha una missione fondamentale Che è quella di aiutare i bambini poveri, ammalati, che hanno subito violenza Per dare a loro la possibilità e l'opportunità di una vita dignitosa Quello che noi facciamo cambia la vita dei bambini In qualche caso addirittura salva la loro vita In vent'anni abbiamo migliorato la vita ad oltre un milione e quattrocentomila bambini Noi lavoriamo spesso vicini alla povertà materiale che non si vede, ma c'è Ci sono molti italiani Da cui famiglia ha perso un lavoro su due Quei bambini non andrebbero all'asilo Perché le famiglie non ce la fanno più L'educazione è dentro la nostra stessa missione E la solidarietà che penso sia la parola magica Nel non-profit l'utile viene destinato tutto all'attività per i bambini nel nostro caso Quindi più utili facciamo noi, più bambini aiutiamo Significa efficienza, organizzazione, riduzione dei costi Questo fa anche parte di un aspetto di responsabilità che tutti noi abbiamo Dobbiamo sapere che se abbiamo meno risorse ci sono dei bambini Che noi abbiamo aiutato e che vogliamo continuare a aiutare Che sono là che aspettano il nostro aiuto Concretezza e trasparenza sono insite nella nostra mente e nel nostro animo Quando i donatori ci danno dei soldi Noi dobbiamo dire dove li abbiamo messi Dobbiamo rendicontare E anche dire che cosa abbiamo fatto in termini di risultati con questi bambini Io sono il presidente e il fondatore Ma prima di tutto Io sono il primo volontario della fondazione Per cui per me è importante che ci siano altri volontari e volontarie Che ci aiutino ad andare avanti Perché questa è una fondazione che deve andare avanti Per aiutare tanti bambini quando il fondatore non c'è più E questo compito è il loro Di quelli che oggi sono qua Ad aiutare davvero ogni giorno Per aiutare davvero ogni giorno Per aiutare davvero ogni giorno